Welcome to Space News from the Electric Universe, brought to you by the Thunderbolts Project at Thunderbolts.info I titoli scientifici mostrano che i paradigmi elettrici dell'universo stanno diventando sempre più la corrente principale. Con i balzi della tecnologia e con i dati si è arrivati a difendere la reputazione delle nazioni di uno stato elettrico dell'universo. Ma le basi promesse dal cosmo dominate dalla forza di gravità restano nel sostegno della cosmologia standard. In questo episodio il vescovo Nicholas Skies prevede quello che forse sarà l'inevitabile scambio di paradigma nei confronti del concetto di un universo elettrico. Questa serie di video afferma dell'esistenza del paradigma della scienza fisica ormai accettata ed insegnata nelle accademie. Si tratta di un'accusa che al momento sembra non calzare per il proposito. Se, come ha formato il Sole e le altre stelle, ricevono la loro potenza dall'esterno e non per causa propria, ovvero non dalla propria fusione nucleare dal loro nucleo, questa diventa un'affermazione significante del fallimento dell'esistenza di questo paradigma. I proponenti dell'universo elettrico non pensano sia strano. Quando arriva il tempo che le linee dal domino che rappresenta la struttura della difficile fisica attuale accettata insieme a tutte le altre scienze che dipendono da essa, arrivano a cadere. Di certo questo stato di cose non è per niente nuovo nel mondo. Nella prefazione di questo ultimo libro, l'immagine abbandonata il professore C.S. Lewis scrive del modello medievale della scienza e la successione del modello corrente accettato in questo modo. L'antica astronomia non è stata, nel vero senso, smentita dal telescopio. La superficie scabrosa della Luna o dei satelliti di Giove possono, se uno vuole, adattarsi allo schema geocentrico. Il vecchio schema è stato rattoppato e maneggiato bene per mantenerlo sotto osservazione. Da allora, grazie a rammendi infiniti come sia stato possibile tenerlo in piedi fino ad ora, io non lo so, ma la mente umana non può sopportare queste crescenti complicazioni, una volta compreso e visto che semplici concezioni possono salvare le apparenze. Né il giudizio teologico né gli interessi acquisiti possono trovarsi permanentemente a favore del modello che, come si vede, è grossolanamente antieconomico. La nuova astronomia trionfa, non perché il caso del vecchio modello è diventato disperato, ma perché il nuovo è uno strumento migliore. Una volta afferrato questo, la nostra radicata convinzione è che sarà la natura con parsimonia a fare il resto. Nel momento che il nostro modello sarà abbandonato, questa convinzione senza dubbio non funzionerà più. I ricercatori dell'universo elettrico si contendono che questo paradigma è molto più economico rispetto al modello accettato corrente, che è stato continuamente rattoppato per tenerlo sotto osservazione, ma nella mia visione giudico che l'intero caso del modello standard ha raggiunto il punto di disperazione. Ritorniamo all'argomento della relatività. Ci sono dei giusti eccitamenti nei media a causa dei risultati di alcuni esperimenti che dimostrano la possibilità che alcuni neutrini possono andare più veloci della luce. Tutta la teoria della relatività dipende dalla luce e anche dalle radiazioni elettromagnetiche di cui la luce ne fa parte, che è il messaggero più veloce possibile. Inoltre la teoria della relatività ultimamente è diventato il fulcro principale di informazioni per far funzionare il modello standard. Se cade la relatività, molto di quello che abbiamo pensato ed imparato nell'ultimo secolo sulla fisicità dell'universo, non lo conosceremo più per lungo tempo e le domande sorgono inevitabili. La relatività è come alcune banche o come alcune nazioni che sono troppo enormi per cadere? Con che cosa ne verremo fuori? Come possono vivere le accademie dei loro sostenitori che dovranno dare qualche sembianza di normalità? Ovviamente questa non è per niente una domanda scientifica, ma è una domanda nei confronti dell'università e dei ricercatori dell'universo elettrico che è diventato ormai familiare da qualche anno. Inoltre esiste un numero sempre più crescente di scienziati indipendenti che hanno provato con soddisfazione di molti che la teoria della relatività non può stare in piedi a dispetto dei tanti che in generali la sostengono. E mi piacerebbe supportare con il mio poco valore questa voce. Il famoso docente Richard Feynman ha fatto notare, se il sole esplodesse proprio adesso impiegherebbe otto minuti prima che noi sappiamo questo e non è possibile che ne siamo influenzati prima. La ragione di questa sua affermazione è la dottrina che il messaggero più veloce che viaggia dal sole alla terra, e per fare questo è tre volte dieci alla potenza otto che fa 300.000 km al secondo è la velocità della luce nello spazio. A questa velocità della luce il sole visto dalla terra appare dove apparentemente doveva trovarsi otto minuti fa e non dove si trova proprio adesso che lo vediamo. Quindi se il sole a causa della sua forza gravitazionale causa alla terra di orbitargli attorno, la trazione del sole sulla terra dovrebbe essere esattamente dove si trova in questo momento, non dove era otto minuti fa. Se la trazione del sole sulla terra avviene otto minuti prima della posizione del sole, la terra dovrebbe rallentare in breve fuori dall'orbita e per di più la trazione gravitazionale di ogni pianeta rispetto al sole avverrebbe in punti differenti, un sole virtuale tanto per parlare. E non potrebbe essere mantenuto un coerente sistema planetario. Per seguire questo deve esistere un messaggero più rapido di quello chiamato gravità che viaggia fra il sole e i pianeti ad una velocità che mantiene la trasmissione della luce e sembrerebbe facile. Non abbiamo bisogno di alcun esperimento sul neutrino che ci dica che possiamo viaggiare più veloci della luce. Basta semplicemente tenere in considerazione tutte le osservazioni da dove si deduce che la terra e gli altri pianeti si muovono attorno al sole in orbita stabile per un periodo di tempo esteso. Questo richiede che il messaggero gravitazionale sia inviato dal sole e ricevuto dalla terra nello stesso modo degli altri pianeti, istantaneamente. La speciale teoria della relatività di Einstein dovrebbe essere stata rigettata molto tempo fa. Ralph Thornhill ha applicato questa vicina e distantiana trasmissione di forza a livello delle particelle fondamentali della materia, quali gli elettroni fornendo la possibilità di una spiegazione elettrica della gravitazione a livello subatomico. E dobbiamo considerare questo stimolante scenario nelle future presentazioni. Grazie a tutti.